Giù sul palco della musica e io direi di inquadrarli e di far partire immediatamente la loro base Lino e i misto Territal C'è Giro Menotti a pagina sette, son cinque le vette dello Yucatan Per me Pietro Micca, se solo ho sbagliato, si era incendiato fumando canguane sul segnario Tirò, tirò la stampella colpendo Santorre Il sangue che scorre nel ventricolo Il pane ci manca, ma Muzio risponde C'ho l'arto che fonde Il tigre e l'eufrana e il sussidiario Torra, panca, torra, ripari, terquino, insuperbo, terquino, brisco Annibale e Pino sul ponte di Bassano, la fargoletta a mano si davano ogni dì Pipino, il preve, i barchiapponi, erano due sento, erano giovani e moni Marittime, cozzie, Giulia e Graie, ma con gran pena le recca giù Tanno più bove la prova del nove, il commembuto e il detta del po' Di toghi, due goghi e villi intestinali, la festa della mamma, la festa del papà Polvorsori, polvorsini, siamo tutti remicini Fai un salto, fanne un altro, fai la riverenza, fai la penitenza Passa paperino con la pipi in bocca, guai e qui la tocca, la tocca proprio tu C'è Ciro Menotti a pagina sette, son cinque levette dello Yucatan Per me Pietro Micca, se solo sbagliato, si era incendiato, fumando Galois nel sussidiario Tiro, tiro la stampella, colpendo Santorre, il sangue che scorre nel ventricolo Il pane ci manca, ma Musio risponde, c'ho l'arto che fonde, il tigre Leofrano è il sussidiario Garibaldi fu ferito, ferito ad una gamba, Garibaldi che comanda, che comanda i suoi soldati Garibaldi fu ferito, ferito ad una gamba, Garibaldi fu ferito, ferito ad un'altra gamba, Gittorio 21-28, questa è la storia di Paperotto, Paperotto è andato a Roma a comprare la corona, la corona era del re, a star sotto tocca a te. La storia di Dio, la storia di Dio, la storia di Dio. La storia di Dio, la storia di Dio. La storia di Dio, la storia di Dio, la storia di Dio. Io temo che lui sia una sagoma in realtà in senso metaforico, se suona con voi. Comunque, com'è questo rock tessile? C'è un nesso, siete della... Sono quelle scelte divine che non ci competono, cioè noi siamo stati incaricati di fare questo. Incaricati da una sovrintendenza alle brutte arti, posso dire così. Va bene. Senti, io so che siete il pallino di Free Kenton e degli Schiantos. Siete nel suo cuore, avete un rapporto preferenziale. Ma lui continua a investirci come dei delfini, dell'eredità, delle cose che loro hanno fatto. Noi pensiamo che invece, per quel che riguarda per esempio il rock demenziale, ci siano stati solo loro e che non possa esserci qualcun altro che fa il rock demenziale. I demenziali sono gli schianto, se basta. E lì nel misto Territol cosa sono? Sono un gruppo di rock and roll che cerchi di fare cose ironiche, in italiano, divertenti. È quello che viene da fare, insomma, divertente, senza scegliere cose precise. Senti, c'è... sì, afro parrocchiali. Però c'è anche un misto di Adams and the Hunt, c'è un riferimento? No, questo è per i vent'anni di Sgt. Pepper. Abbiamo voluto fare un piccolo omaggio... Ai Beatles, sì. Abbiamo una quantità di regali da lasciarti, poi fanzine, tessere del fan club e cose del genere. Dopo passiamo. Ma certo, poi passate di là. Adesso... ma perché non me ne dai subito, scusa? No, ma non perché io magari pensi che voi scappiate, ma... visto che abbiamo una, due e tre telecamere. Come faccio a non sudare? Io sudo come una bestia, ho una prossemica...